benvenuti a Mappamundi vedete collegato Mirko Mussetti ciao Mirko ciao allora oggi non è il formato Mirko e Mirko già abbiamo fatto una sola puntata con eh Mirko Parabellum che abbiamo parlato appunto di Polonia nel volume di Polonia e quindi anche oggi insomma par condicio solo con Mirko Mussetti perché parliamo di Romania eh io mi scuso per la voce insomma non sono al meglio delle mie condizioni però chissà magari che dici Mirko forse addirittura meglio così non è che la mia voce originale poi sia molto meglio ma lo diciamo sempre insomma qui sul canale pensiamo ai contenuti più che la forma e quindi speriamo vada bene lo stesso ma penso che una voce profonda attira il pubblico quindi bene così. Vabbè diciamo speriamo che siano più attirati dalle cose che dici tu Mirko. Allora Romania perché Romania è uno dei paesi che sta diventando sempre più importanti eh di quella fascia dell'Europa centro orientale a questo di fatto è dedicato l'ultimo volume di Limes che eh potete vedere appunto la Polonia imperiale ovviamente è incentrato sulla Polonia e qua vi rimando alla puntata che abbiamo fatto appunto con Mirko Campochiari ma anche quella con Fabrizio Maronte e quella con Lucio Caracciolo e però nella fascia di ehm allora se ci riesco vorrei ritrovare anche la carta giusta eccola qua nell'istmo d'Europa o come si diciamo in redazione la linea Mussetti c'è questa linea che di cui adesso raccontaci tu dai su questa linea c'è la Polonia ovviamente ma c'è la Romania e quindi questo fa anche dell'importanza della Romania eh di cui parliamo oggi. Perché questa linea Mirko? Allora la Romania dal punto di vista degli strateghi americani è fondamentale è un perno essenziale per la difesa dell'intera alleanza atlantica. Il fianco orientale della NATO infatti si fonda su due grandi bastioni che sono la Polonia e la Romania. Nazioni che per proprie dimensioni sono molto simili sia sotto il profilo territoriale che demografico. Eh diciamo che è anche a livello di basi c'è una certa simmetria. Nel nord della Polonia è dislocato infatti lo scudo eh aereo nella base di Rezikovo mentre a sud della Romania eh lo il lo scudo antimissile di De Veselu. Eh quindi a nord della Polonia e a sud della Romania al fine di avere uno spettro più ampio dello scudo uno scudo più largo possibile. Nel centro della Polonia a Lask c'è la diciamo la base aerea adibita in futuro per ospitare gli F-35. In centro alla Romania a Campia Turzi c'è la base aerea ehm rumeno americana adibita anch'essa ad ospitare gli F-35 e quindi potenzialmente le bombe atomiche. Sempre in questa base rumena ad esempio sono già dislocati i droni MQ-9 Reaper come quello che è sostanzialmente è stato intercettato e fatto ammarare dagli americani nelle vicinanze della Crimea. Ecco che i due basi di Lask e Campia Turzi sono nel centro dei due paesi e costituiscono i due fuochi dell'intero spazio ellittico di difesa aerea della Nato per intenderci. E qui scusa per finire un attimo per spiegare la carta invece la linea rossa vedete l'ex clave di Kaliningrad la punta del cunio bielorusso e la transinistria che è questa no zona oscura di cui abbiamo già parlato zona grigia all'interno della Moldova ma di fatto diciamo come dire un baluardo indiretto della Russia quindi abbiamo le le tre posizioni più avanzate russe collegate appunto da quella che vedete la linea rossa però allora torniamo a noi tu hai già introdotto un po' il tema di della della Romania e noi abbiamo qui proprio una carta abbiamo uscita qualche mese fa qualche altro volume di Limes e proprio la Romania stelle a strisce l'abbiamo chiamata no qui vedete proprio il dettaglio della Romania della Nato quindi correggimi se sbaglio Mirko la Romania certo in posizione secondaria probabilmente rispetto alla Polonia però è appunto il baluardo sud di questo fronte della Nato e per gli Stati Uniti d'America è un po' come Polonia e Romania nel confronto con la Russia e dall'altra parte no Giappone e Australia nel confronto con e poi altri paesi ovviamente nel confronto con la Cina però ecco allora perché Romania stelle a strisce quanto la Romania è nato e quanto è filo americano? Allora c'è da dire che la Romania è fortissimamente atlantista è filo americana fino al midollo nel senso che non esiste in tutto l'arco costituzionale romeno un singolo partito filo russo o con simpatie comunque legate alla Russia o alla Cina quindi è fortemente occidentalista le due le due stelle fisse della Romania sono eh la Nato e l'Unione Europea che sono stelle fisse che vanno quasi a diciamo molto vicine indicano entrambe una medesima direzione che è quella dell'Occidente ehm nel caso specifico la Romania ehm è sempre stata così anche sotto il patto di Varsavia era un elemento una nazione piuttosto ostica nei confronti di Mosca era infatti la meno russofila tra tutte le nazioni del patto di Varsavia e spesso anche a livello popolare ci si lamenta proprio anche a livello di cittadinanza ma che sfortuna la Grecia che è molto filo russa è rimasta all'interno della Nato noi che preferiremmo molto di più eh l'America e l'Occidente siamo finiti sotto il gioco russo quindi c'era un pochino anche questa diciamo ehm paragone con con la vicina Grecia in cui si sarebbero scambiati i ruoli della Polonia no abbiamo detto che quando parlano quando pensano all'Occidente pensano agli Stati Uniti più che all'Europa e la Nato è molto più importante rispetto all'Unione Europea vale lo stesso per la Romania oppure no c'è un atteggiamento un po' diverso? La Romania ha una posizione un po' più morbida rispetto alla Polonia comunque se dovesse essere messa alle strette prevarebbe l'atlantismo prevarebbe il partenariato strategico con Washington non i legami con Bruxelles anzi di recente la Romania è rimasta molto frustrata dalla decisione di essere esclusa dall'ingresso nello spazio Schengen. L'unanimità è quasi raggiunta per l'ingresso della Romania nello spazio Schengen ma ha trovato l'opposizione di una singola nazione che è l'Austria. Guarda caso l'Austria paese membro dell'Unione Europea ma non della Nato. Quindi la Romania è talmente frustrata da questa continua esclusione e marginazione non sebbene ormai tutti i capitoli siano stati raggiunti, cioè tutti i requisiti per entrare nell'area Schengen siano stati raggiunti, si vede esclusa. Quindi anche questa piccola frustrazione avvicina un passettino di più la Romania a Washington che a Bruxelles. Comunque in linea di massima Washington e Bruxelles sono come i due genitori, fai fatica a fare la differenza su chi sia il preferito. La Romania guarda l'Occidente, punto. Per motivi economici guarda Bruxelles, per motivi strategici guarda Washington. Questo è diciamo il sottofondo. Allora intanto salutiamo anche tutti insomma gli amici rumeni che vivono e lavorano in Italia così come i tanti italiani che sono in Romania perché ricordiamo c'è sempre stato un legame culturale oltre che politico e storico tra quella Romania e legame appunto soprattutto latino, neolatino che l'Italia ha sempre avuto. Ecco allora ti faccio subito la domanda che riguarda l'Italia. Come sono attualmente i rapporti tra i due paesi? E direi già che ci siamo allora dai mostriamo la copertina del tuo libro La Rosa Geopolitica è uscito qualche tempo fa che sarà tradotto appunto in romeno quindi a maggio se non sbaglio correggimi se sbaglio uscirà in Romania il tuo libro in appunto in romeno e quindi immagino che da ciò miglioreranno le relazioni tra tale Romania sicuramente insomma. Ah sì sì sono l'anello di congiunzione. A parte le battute insomma ecco allora quindi eh l'Italia che posizioni ha che ruolo ha insomma tra Washington, Bruxelles, Roma come sta messa con la Romania? Allora Italia e Romania sono ehm in ottimi rapporti lo sono però più che altro sotto il profilo culturale quindi a livello di sentimento popolare diciamo eh a livello governativo forse eh c'è un po' di care è percepita un po' la carenza di Roma quindi delle istituzioni italiane in in Romania e paradossalmente più forte in Romania la Francia che è molto più attiva. Addirittura in pochi sanno che la Romania fa parte della francofonia talmente si sentono vicini. La Romania dire il vero ha ereditato un pochino il modello di stato francese dalla bandiera in cui il bianco è stato sostituito col giallo quindi il tricolore rumeno si ispira molto a quello francese alla suddivisione amministrativa nei distretti. La grandezza dei distretti rumeni è molto simile a quella dei distretti francesi fino anche alla visione centralizzata dello Stato. Bucarest che è tutto sommato posizionata geograficamente in un punto periferico è percepita come centro dello Stato. Le ferrovie e le strade erano concepite per ricongiungersi verso Bucarest esattamente come Parigi che è molto a nord dell'esagono eppure percepita in posizione centrale da un punto di vista anche logistico. Quindi si ispira molto nella strutturazione dello Stato alla Francia, alla Romania, molto meno all'Italia. All'Italia ci si ispira magari per le origini antiche. La Romania è la terra dei romani ovvero dei latini che si erano fusi con i daci e proprio per si concepiscono come nazione fusione tra due grandi popoli del passato. I daci che non erano tribù selvagge ma erano una nazione ben strutturata con l'invasore romano che sebbene abbia persistito sul territorio dacico per poco più di un secolo ha in realtà lasciato molto in eredità a partire dalla lingua. Il romano è una lingua neolatina e quindi ecco questo è un legame culturale che ci lega molto con... Poi ovviamente i legami economici per i romeni che vivono e lavorano qui ma anche per le industrie italiane che hanno... Dal punto di vista economico siamo molto presenti in Romania. Allora i cittadini romeni sono molto presenti in Italia e sono se non la prima la seconda minoranza nel nostro paese e hanno aiutato molto il paese e Romania con le proprie rimesse economiche e quindi ha aiutato anche la Romania a svilupparsi proprio in termini sociali proprio a partire dalle famiglie che ricevevano denaro dei propri familiari all'estero e quindi anche dall'Italia. Noi italiani invece siamo presenti con piccole e medie imprese nel tessuto produttivo della Romania, nel tessuto industriale della Romania. Tutto partì con il fenomeno Timisoara degli anni 90 ovvero quando le imprese del Triveneto ovvero del nord-est italiano trovarono vantaggioso dislocare parte della propria produzione nella parte più occidentale della Romania ovvero nel Banato nella zona di Timisoara. Tutto sommato da un punto di vista geografico la distanza tra il Friuli e il Banato è molto inferiore rispetto alla distanza del Friuli con le regioni del meridio italiano. Quindi c'era anche una questione logistica, produrre a basso costo in Romania per rivendere in Italia o addirittura in occidente. Oppure fare entrare parte della produzione di prodotti tipici italiani in Romania e completarla in Italia per finalizzarla in Italia per poter aggiungere il marchio Made in Italy. Quindi c'è stata anche un po' questa triangolazione, questa furbata per cercare di spiccare maggiori guadagni. Comunque fatto sta che a oggi, dopo ormai vent'anni di intensa collaborazione economica, moltissime imprese italiane per lo più medio piccole sono presenti nel tessuto produttivo della Romania. A differenza degli altri stati noi abbiamo puntato sulle piccole imprese, altre nazioni invece arrivano con grandi multinazionali in Roma. E infatti come dicevi tu poi la Francia ha un ruolo importante in Romania perché infatti la Dacia, insomma, l'industria mobilistica legata al Renault ovviamente e quindi rapporti con la Francia. Ma non solo perché intanto rimostro la Romania a stelle a strisce e anche il dettaglio qui è più chiaro. E tra l'altro Emerson abbiamo parlato proprio con te in una puntata sull'aggiornamento della guerra in Ucraina che facciamo appunto nel formato Unirco e tu ci raccontavi come i francesi ad esempio hanno diserogato qui la batteria missilistica dell'SMP che diciamo i francesi hanno usato questa motivazione per non darla diciamo all'Ucraina no? Mentre invece se posso il problema è per l'Italia che insomma non l'abbiamo data dalla Romania e c'è il problema che dava l'Ucraina. Esatto. Allora lo si vede bene nella carta sulla rotta per il grano. I francesi Samp... Ecco l'Italia. Esatto. I francesi hanno dislocato una propria batteria di produzione appunto italo-francese Sampti che loro chiamano Mamba nel porto di Costanza, nei pressi del porto di Costanza dove è presente la base militare Michael Coglniceani. Questo perché con che scusa? Beh per agevolare ad esempio la rotta per il grano. Quindi proteggere lo spazio aereo non solo della base multinazionale della NATO ma anche dei cieli antistanti sopra il Mar Nero dove appunto transita il corridoio per il grano. Corridoio per il grano che ricordiamo è scaduto il 18 marzo ma è stato prorogato di 60 giorni. Quindi tornerà a scadere a maggio poco prima della stagione del raccolto. Quindi in realtà continuerà il corridoio per il grano ad essere una leva negoziale piuttosto forte per la Russia. Però perché è importante questo corridoio del grano? Beh perché la Romania si è sforzata ben prima dell'accordo sul grano di aiutare l'Ucraina a sfiltrare i propri cereali e ad esportarli in giro per il mondo. Come? Beh attraverso ad esempio il sistema dei cinque porti del Basso Danubbio. Quindi Breil e Galaz in Romania, Giurgiulest in Moldova e Regni e Ismail in Ucraina. Queste cinque città portuali hanno permesso di ricevere il grano attraverso i porti fluviali e di portarli nel Mar Nero aggirando quindi il blocco che era di fronte ad Odessa. È stata una pezza ma che è stata molto utile per iniziare a esportare il grano. Perché Regni e Ismail non erano attaccabili? Perché sebbene in Ucraina i russi non hanno mai lanciato missili contro queste città perché sono proprio sul confine della Nato. Il Danubio, il tratto finale del Danubio è il confine dell'alleanza atlantica. Quindi non si sono mai arrischiati a tanto. Tuttavia ecco che il delta del Danubio è diventato fondamentale sebbene comunque ci siano ad oggi degli screzi tra Bucharest e Kiev. Perché l'Ucraina intende approfondire un canale che parte dal ramo più settentrionale del delta del Danubio verso la propria costa. Questo canale però attirerebbe più acqua creando dei problemi possibili probabilmente idrografici per tutto il delta del Danubio. L'Ucraina vuole aumentare il pescaggio di questo canale proprio per poter diciamo usarlo per le proprie navi mercantili. Non dimentichiamoci che tutti e tre i canali della Romania di fatto sono sotto la sovranità romena. Tutto il delta del Danubio è controllato dalla Romania. Cosa che non è mai andata particolarmente a Genio a Kiev. E questo anche per ragioni storiche diciamo. Però ecco tu sai adesso sei arrivato hai centrato proprio il focus. Torniamo diciamo all'aspetto geopolitico. Cioè la posizione della Romania qui la vedete appunto nella Nato americana la Polonia ha un ruolo fondamentale ma anche la Romania proprio per la sua posizione lì a sud rispetto all'Ucraina e soprattutto appunto con dicevi tu attraverso il controllo della foce del Danubio e soprattutto sul Mar Nero no? Quindi eh torniamo adesso sulla carta eh vorrei mostrarvi anche quest'altra appunto del fronte sud ehm della Nato perché sì è vero c'è la Turchia ma insomma la Turchia pur alleato della Nato gioca la sua partita no? Però in proprio come dire mentre invece quindi gli Stati Uniti possono fare più affidamento sulla Romania sul Mar Nero è così? Certamente eh la Turchia come sappiamo è da sempre un divaga nelle proprie relazioni internazionali mentre la Romania costituisce un alleato modello per gli Stati Uniti e dunque anche la sua posizione sul Mar Nero può tornare utile agli Stati Uniti. Se possiamo impostare la mappa sulla Romania stelle strisce vi faccio notare un piccolo particolare ecco questa è perfetta come gli Stati Uniti stiano cercando di progettare un la costruzione di un tubo che possa condurre idrocarburi militari dalla dal porto di Alessandropoli quindi nella traccia Grecia fino alle basi Nato in Bulgaria e Romania fino a Michael Coganiceani. Questo perché proprio per cercare di bypassare la traccia turca e quindi gli stretti turchi. Nel caso in cui ehm gli stretti turchi fossero chiusi come peraltro accade in questo contesto bellico eh per le navi militari le navi gasiere potrebbe comunque raggiungere le coste il gas e gli idrocarburi raggiungerebbero comunque eh le coste della Romania senza per forza forzare il blocco turco eh sul Bosporo. È importante sotto il profilo militare perché comunque a costanza eh sono ancorate navi militari della Nato. Ecco che quindi quel piccolo tratto di di costa della Romania diventa fondamentale sia per l'esportazione del del grano eh sia per segnalare la presenza stabile della Nato nel Mar Nero. Il Mar Nero è regolato ovviamente dalla convenzione di 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 Monroe che sostanzialmente eh impedisce la 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 presenza stabile di eh navi militari di nazioni non rivierasche. Tuttavia grazie alla Romania si possono eh diciamo organizzare frequenti esercitazioni congiunte quindi permettere ad esempio anche navi statunitense di fare ingresso nel Mar Nero con il pretesto delle esercitazioni. Quindi c'è sempre a rotazione una presenza occidentale a parte in questo caso ovviamente particolare della guerra sull'Ucraina. E quindi comunque la costa è molto importante è talmente importante che prima non ne ho fatto accenno ma il delta del Danubio è stato dichiarato eh parco nazionale in Romania per proteggere la ricca biosfera. Naturalmente questo ha uno scopo ecologico sì è vero ma anche un risvolto strategico. Se dichiari il delta del Danubio eh riserva naturale non puoi costruire ponti, strade, ferrovie e dunque tutte le linee logistiche che dall'Ucraina si dirigono verso la Romania si fermano eh non appena raggiungono il Danubio. Ad esempio la ferrovia raggiunge il porto di Ismail ma si ferma lì. Questo perché è stato concepito dalla Romania? Beh per evitare potenziali invasioni da est. Se vi fossero state delle linee logistiche serie l'Unione Sovietica prima, l'Ucraina o la Russia poi avrebbero potuto organizzare delle rapide invasioni che potessero portare grossi eserciti direttamente alle porte di Bucharest. Proprio sfruttando il Bugiac che è questo piccolo fazzoletto di terra ucraino a meridione a sud della Moldova. Allora ehm tanto come ricordo come al solito le carte sono disegnate da Laura Canali come tutte quelle di Limes. Ehm allora parliamo un attimo dei rapporti con l'Ucraina. Tu hai accennato diciamo appunto all'avversante sud che non sempre sono stati eh amichevoli diciamo sulla linea del del Danubio insomma la parte meridionale. Però è a mostro appunto la carta della Bukovina. Diciamo le questioni con l'Ucraina si allargano pure invece eh pure a nord. Sì esatto qua noi abbiamo la Bukovina eh che come possiamo notare suddivisa in Bukovina meridionale e Bukovina settentrionale. La Bukovina meridionale è parte della della Romania e quindi parte della Moldova. Ricordiamo che la Moldova è quella regione storica che va dai Carpazzi fino al fiume Nistru o Donestr. Se vogliamo. E qui vedete appunto proprio nella in alto nel ritaglio c'è appunto la carta del principato della Moldova che noi chiamiamo Moldavia. Mentre invece la Moldova moderna attuale è solo una parte di quello appunto la Moldova è l'ex Repubblica Sovietica poi diventata indipendente. Esatto. Possiamo addirittura dire che le capitali storiche del principato della Moldova sono tutte in Romania. Eh da Sireta succeava Iashi. Quindi è già questo indica come in realtà la Moldova non sia una nazione a sé stante ma sia una grande regione storica per lo più incentrata sulla Romania. Lo stesso termine Moldova prende il nome, la stessa regione prende il nome dall'omonimo fiume Moldova che scorre interamente in Romania, non nella Repubblica di Moldova. Quindi questo è giusto per inquadrare il concetto di fondo. C'è da dire che la bucovina tra tutte le componenti della Moldova è forse una di quelle culturalmente più affascinanti. Oltre al fatto che sono presenti bellissimi monasteri che sono dipinti esternamente, non internamente, sono affrescati all'esterno e sono patrimonio dell'umanità unesco e li trovi solo in questa zona, questi caratteristici monasteri, c'è il fatto che è anche culturalmente stata molto viva nel corso dei secoli, perché è un intreccio di comunità etnico-linguistiche differenti, dagli ucraini ai rumeni alla comunità ebrea e così via. Prendiamo ad esempio il più grande poeta del Novecento, Pol Selan. Pol Selan è nato proprio a Cernauz, che oggi viene chiamata Cernivci in Ucraina, lo si vede bene nella mappa della bucovina. Quella città che oggi è Ucraina, ed è oggi a maggioranza Ucraina, un tempo era a maggioranza rumena. Tuttora le regioni circostanti sono a maggioranza rumena, rumenofona per meglio dire. Ed è qui che nascono le preoccupazioni di Bucharest verso questa regione dell'Ucraina. Perché? Perché anche i rumenofoni vengono chiamati a combattere nel Donbass, ad esempio. Probabilmente per una regione per cui non provano una particolare nostalgia o desiderio eredentista. E invece ci sono d'altronde anche delle leggi in Ucraina, come la legge sulla lingua unica, che va proprio a penalizzare la comunità rumena che abita in Ucraina, in particolare nella bucovina settentrionale. La legge sulla lingua unica impedisce sostanzialmente le lezioni in lingua rumena nelle scuole. Questo quindi va a danneggiare la comunità rumena. Gli ungheresi sono molto più attivi in questo nelle proprie proteste per questa forma di discriminazione verso la comunità maggiara in Transcarpazia. La Romania adotta, come abbiamo detto prima, un appoggio molto più morbido nei confronti dell'Ucraina, ma sotto sotto sono molto delusi da questo compartamento che va a discriminare proprio la comunità rumenofona che abita la bucovina settentrionale in primo ordine. Un misura minore il Bugiak. Questo ricordiamo fu volere di Stalin dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché così aveva un confine diretto dell'Unione Sovietica con paesi che poi avrebbero fatto parte del patto di Varsavia, insomma, satelliti dell'Unione Sovietica. Quindi aveva proprio un confine diretto con Romania, Ungheria, che poi fu fondamentale nel 1956 ovviamente per l'invasione dell'Ungheria. Però così facendo lui inserì nell'Ucraina, nella Repubblica Socialista Sovietica di Ucraina, non solo Leopoli e tutta insomma quella zona, quella era parte della Galizia che non era mai stata diciamo russa, anzi profondamente antirussa perché era nell'impero asburgico, ma anche appunto tutti questi territori poi che creano tuttora problemi con Ungheria, Romania, proprio perché sono proprio quelle regioni cruciali che appunto da Prima e Seconda Guerra Mondiale si sono spostate da una parte e dall'altra e che ancora oggi insomma rappresentano una ferita. E a proposito di ferite vogliamo passare, voglio dire aggiungere qualcosa o vogliamo passare alla Bessarabia, Romania e Moldova? Volevo aggiungere qualcosa ma proprio in termini di Bessarabia e Repubblica Moldova. Stavamo parlando delle ruggini tra Bucharest e Kiev che non vengono molto ostentate ma ci sono. Beh un sentimento di fondo che non viene palesato ma che è nell'anima di molti romeni così come di molti moldavi, gli abitanti della Bessarabia, è il fatto che nel 1992 nella prima guerra di Trasnistria, sperando che non venne sia una seconda, gli ucraini erano al fianco dei russi a sparare contro i moldavi. A distanza di trent'anni i rumeni non se lo sono dimenticati, anzi a distanza di trent'anni dicono ah voi ucraini adesso venite a chiederci il nostro aiuto. Capito? Per ora non si tira fuori il discorso ma quando ci sarà cessato il fuoco alcune questioncine dovranno essere ripristinate. Intanto io mostro la carta appunto fortezza della Trasnistria perché spieghiamolo, ne abbiamo parlato anche in altre trasmissioni ma insomma ripetiamolo. Quando c'è la dissoluzione dell'Unione Sovietica questa zona della Trasnistria cioè al di là del fiume Nistro è sostanzialmente occupata da truppe sovietiche russe, filorusse e all'improvviso con la fine dell'Unione Sovietica si trovano fuori dalla Russia quindi di fatto questa zona diventa una zona franca, ne abbiamo parlato all'IMES tante volte, anche franca anche per quanto riguarda i traffici, le mafie e così via. Comunque di fatto rimane questa zona grigia, quest'avamposto russo tra Ucraina e Moldova. Quindi qui il problema come accennavi tu tra Romania e Moldova in quanto Moldova parte della Bessarabia storica che adesso mi direi tu, non so quanti in Romania ritengono ancora questa regione romena e quindi che debba tornare alla Romania, non so fino a che punto diciamo si spingono. Tutto è complicato dal fatto che c'è poi anche questo pezzettino diciamo filorusso che ora si trova poi al confine con l'Ucraina in guerra appunto con la Russia. Quindi qui vedete, mostro anche il dettaglio, una situazione davvero complicata. Allora a te Mirko. Allora, sì con il collasso dell'Unione Sovietica è subito emerso il problema della Trasnistria. Tanto per cominciare le munizioni magari che erano presenti nella DDR o nella Cecoslovacchia sono state spostate più a este, in particolare nello stoccaggio di munizioni di Kobasna, che è un villaggio a soli due intrasnistria, a soli due chilometri dal confine dell'Ucraina. In questa zona era presente la quattordicesima armata rossa che pian pianino si è trasformato nel gruppo operativo di truppe russe che hanno come scopo principale proprio la protezione di queste munizioni che ammontano a oltre 22.000 tonnellate. Munizioni d'origine sovietica, quindi anche in larga misura nello standard impiegato dalle forze armate dell'Ucraina. Per capirci. Perché il problema si è subito presentato fin dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica? Proprio per questa questione di natura strategica. Proteggere le armi, proteggere la comunità russa o russofona presente in Trasnistria e quindi la Trasnistria si è dichiarata indipendente dall'Unione Sovietica nel 1990, al 2 settembre del 1990, addirittura un anno prima della Repubblica Socialista di Moldavia. Quindi la Trasnistria si è dichiarata indipendente prima della Moldova, un anno prima. La Mold Kishinau si è dichiarata indipendente il 31 agosto 1991. Quindi i russi sapevano già che la Trasnistria non poteva rimanere attaccata alla Moldova per questioni di natura strategica. Scusa, spediamo giusto un attimo questa cosa. Perché siamo in quella fase in cui la Russia demolisce dall'interno l'Unione Sovietica. Quindi è la russa di Yersin, noi ricordiamo il tentativo di colpo di Stato, Yersin sale sul carro armato e quindi questi pezzi anche fuori della Russia seguono una Russia che dichiara la propria indipendenza dall'Unione Sovietica. E quindi in Trasnistria, che ricordiamo anche questo, fu inserita nella Repubblica Socialista Sovietica della Moldavia perché era a parte russa e che quindi avrebbe garantito, tra l'altro qui, tu hai detto già in altre puntate, qui c'è la parte più industriale, c'è la parte della produzione elettrica, mentre invece il resto della Bassarabia, di cui i sovietici non si fidano proprio perché è parte storica della Romania, quindi la Trasnistra viene inserita nella Repubblica proprio per garantire un maggiore controllo da parte di Mosca. Esatto, sì, la Trasnistria è stata letteralmente appiccicata alla Repubblica Moldova. Ricordiamoci che la Trasnistria non fa parte dello spazio geopolitico romeno. La Trasnistria è un neologismo coniato dal conducatore Antonescu per indicare la zona oltre il fiume Nistro. Mentre l'Italia aveva Mussolini che mandava le persone indesiderate al confino, il conducatore mandava gli oppositori politici e le minoranze sgradite in Trasnistria, ovvero oltre il fiume Nistro, al di fuori dello spazio della Romania. Quindi addirittura concettualmente la Trasnistria non è parte della Romania, dello spazio geopolitico della Romania. Addirittura etimologicamente non lo è. E quindi questa è la situazione. La Trasnistria però è stata poi appiccicata dall'Unione Sovietica proprio alla Repubblica Socialista di Moldova proprio per diluire il ceppo romeno, la componente romenofona di questa Repubblica Socialista. Si sono sforzati molto affinché si sviluppasse un'unica città, Chisinau, più o meno al centro della Repubblica Moldova, e affinché fosse abitata sempre di più da persone di lingua russa. Mentre nel resto della Repubblica non dovevano svilupparsi grandi poli industriali. Infatti in Bessarabia l'industria è pochissima. L'economia si fonda principalmente sulla produzione ortofrutticola o vitivinicola. Quindi questa è l'impronta economica che è stata data alla Repubblica di Moldova che doveva essere il giardinetto della Russia, in qualche modo. E infatti così è stato. I russi hanno addirittura impedito alla Romania, alla Moldova, di avere un accesso al mare. Perché? Perché non doveva sviluppare un'economia indipendente dalla data quella di Mosca, con delle proprie esportazioni. Noi vediamo in questa mappa disegnato il porto di Giorgio l'Est, cioè fu il Danubio, nel punto più meridionale della Repubblica di Moldova. Ma in realtà è un porto molto recente. La Bessarabia, la Repubblica Socialista, non aveva neppure l'accesso al Danubio. Quindi non poteva neppure dotarsi di un porto fluviale che potesse riconnettersi ai mari ed avere una propria esportazione indipendente. Il porto di Giorgio l'Est è stato garantito da uno scambio territoriale tra la Moldova e l'Ucraina. L'Ucraina ha ceduto tipo un chilometro di costa e in cambio ha ottenuto da un'altra parte molto più terreno. Quindi in realtà la Moldova è stata anche presa in giro dall'Ucraina. È stata truffata in questo scambio di territorio. Però quello era un chilometro strategicamente importante. Esatto, ma non poteva fare altrimenti anche perché l'Ucraina è sempre stata molto debole economicamente. Quindi il territorio non poteva comprarlo banalmente con i donari e doveva offrire qualcos'altro, ovvero del territorio da qualche altra parte. C'è inoltre da dire che quindi quando Zelensky parla di ripristino dei confini del 1991, si dimentica che però Giorgio l'Est deve rimanere alla Moldova, non deve tornare all'Ucraina in qualche modo perché è uno scambio bilaterale, diciamo un po' truffaldino per la Moldova ma comunque onesto, cioè uno scambio sottoscritto da due nazioni sobrane. Però non mostrare tutta la tua simpatia per la Moldova, Mirko. Hai ragione, non posso tifare in modo così sfrenato. Vabbè, comunque rismentiamo perché non so, ha girata questa voce che tu avessi origini addirittura diciamo moldave, non è vero insomma. Non è italiano. Allora, torniamo alla grande questione Romania-Moldova-Bessarabia. Cioè, in Romania c'è ancora voglia di riprendersi insomma la Moldova, è un retropensiero, una cosa che pensano ma non dicono, oppure insomma è superato e ormai non è più questione? Allora, il retropensiero c'è, perché comunque l'irredentismo romeno non è mai morto. C'è però da dire che la Romania non lo vuole fare in modo troppo assertivo o troppo vuole questa unirea raggiunta in modo graduale. Come? Con tante piccole tecniche, tanto per cominciare con le interconnessioni energetiche. Diciamo che con i fondi dell'Unione Europea sta praticando molti progetti per cercare di svincolare la Repubblica Moldova dalla dipendenza del gas russo e dell'energia elettrica orientale, quindi dall'Ucraina e dalla Trasnistria. Perché ricordiamoci sempre che la Repubblica Moldova ha adottato lo standard sovietico, quindi per una questione di tensioni può importare energia elettrica o da est o da ovest, ma non da est e ovest contemporaneamente. Quindi la Romania sta creando questi progetti di modo che quando verrà il momento giusto tutto il mercato energetico della Moldova andrà ad integrarsi in modo istantaneo al mercato rumeno che non ha problemi di energia. La Romania è un produttore netto di energia. Oltre al fatto che produce idrocarburi, grazie anche ai giacimenti offshore nel Mar Nero e ne produrrà sempre di più in futuro, è dotato anche di centrali nucleari. Peraltro la centrale nucleare di Cernavoda, due reattori li abbiamo costruiti noi italiani, sostanzialmente. Quindi c'è una forte collaborazione tra Italia e Romania nel settore nucleare. Anche nel rinnovo del terzo e quarto reattore siamo molto attivi noi italiani, siamo molto coinvolti. Questo per ritornare al discorso di prima. Comunque per quanto riguarda l'Unirea lo si fa a passi passi. La Romania parla di ingresso della Moldova nell'Unione Europea, ad esempio. Quindi scopo della Romania, primo scopo è svincolare la Repubblica Moldova dei suoi legami storici con la Russia. Quella è la prima cosa che punta a Bucharest. E poi iniziano a sorgere delle idee. Tanto per cominciare non si parla di referendum. in Repubblica Moldova per l'Unirea. Perché? Perché probabilmente vincerebbero i nostalgici sovietici. Quindi persone che non hanno intenzione di entrare nella Romania. Ma poi si parla più che altro di processo tedesco. Ricordiamoci che la Germania Est si è unita alla Germania Ovest senza alcunissimo referendum. Semplicemente per un moto popolare. Quindi se proprio la Romania vorrebbe creare manifestazioni pro-unionismo in grado da permetterle di unire la sua provincia storica alla Romania senza passare da una conta. La conta è sempre molto rischiosa in questi contesti. Perché l'ignoto, la paura dell'ignoto, supera sempre anche magari un amore profondo. Quindi anche il rumenofilo in Moldavo avrebbe magari paura a unirsi all'Unione Europea e alla Romania perché penserebbe proprio il torno a conti personali. Un avvocato moldavo riuscirebbe a operare in un sistema giuridico che non conosce. Un professore riuscirebbe a insegnare un programma scolastico che non conosce all'interno della Romania e così via. Quindi c'è tutta questa questione. I giudici. E si vuole evitare. Una idea molto carina che è sorta qualche settimana fa ed è stata avanzata da un parlamentare rumeno, è stata. L'anno prossimo ci saranno le elezioni presidenziali in Romania. A maggio, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi. Quindi dovremo scegliere un nuovo presidente. E se fosse ad esempio Maya Sandu, l'attuale presidente della Repubblica Moldova, Maya Sandu è dotata di doppio passaporto, rumeno e moldavo. E non si sa se sia unionista, perché non si è mai espressa pubblicamente sotto questo profilo, anche se la sua prima vacanza all'estero è stata sul monte Monte Anu, in Romania. Quindi giusto per capirci. E la situazione è questa. In questo caso si verrebbe a creare una situazione strana, ovvero di un capo di Stato, presidente di due nazioni, della Repubblica Moldova e della Romania, in modo perfettamente legato. È una provocazione, no? È una provocazione, ma fino a un certo punto, perché ha detto che se il partito d'opposizione, cioè se anche i socialisti della Romania sono disposti a presentare la candidatura unica con noi liberali, allora la portiamo avanti sostanzialmente come candidatura unica. Vincerebbe a man bassa. Quindi è una cosa che va studiata, ma la cosa si inserisce in un'altra questione, ovvero che l'attuale presidente Klaus Ioannis, molto apprezzato in Occidente, nelle cancellerie occidentali, soprattutto nell'Alleanza Atlantica, non è da escludere che possa essere un papabile sostituto di Stoltenberg. A fine anno scade il mandato di Stoltenberg e dovrà essere in qualche modo sostituito. C'è un paese, soprattutto nel fronte meridionale della Nato, che sostiene che è arrivata l'ora di basta segretari generali del Nord Europa. Perché dopo una lunga serie, che è iniziata con un olandese, con il danese Rasmussen e ora con il norvegese Stoltenberg, è arrivato il momento di presentare un segretario generale del Sud Europa. Il problema è che nel Sud Europa ci sono cancellerie, magari più morbide nei confronti della Russia. La Romania no. La Romania è comunque un paese modello, agli occhi degli Stati Uniti, è comunque un paese del fronte orientale della Nato, quello più caldo nella contrapposizione contro la Russia. Quindi l'opzione di presentare un candidato rumeno si sta, diciamo, rafforzando, sia nell'idea di Bucharest e soprattutto potrebbe essere molto apprezzata anche a Washington. Washington hanno il problema dei rapporti con la Polonia. La Polonia è paradossalmente più realista del re, quindi spesso più bellicista, più assertiva di quanto non siano gli Stati Uniti stessi. E questa cosa a molti a Washington iniziano a dar fastidio. Quindi si potrebbe magari premiare una figura proprio rumena, quindi sempre del fronte orientale, ma del bastione sud, non del bastione nord. Questo dipende, quindi c'è il gioco della presidenza rumena in futuro. E vabbè, ne riparleremo sicuramente. Ne riparleremo sicuramente. Allora, però, la questione però a Moldova è cruciale, quindi come abbiamo accennato anche in altre puntate, è uno di quei paesi un po' divisi, no? Tirati per la giacchetta sul versante russo e sul versante romeno. E in questa situazione di guerra in Ucraina, e quindi di netta separazione tra Russia e Occidente, per la Moldova è una questione esistenziale. Sì, è sicuramente una questione esistenziale. La Repubblica Moldova è troppo debole per poter irritare le grandi nazioni. La Repubblica Moldova è esposta, ad esempio, con la Russia sotto il profilo finanziario. Diciamo che la Russia non ha mai reclamato il pagamento delle fatture, dell'energia consumata e soprattutto del gas consumato in Trasnistria, che è regione degli ore sotto Chisinau, quindi potrebbe presentare una fattura di oltre 7 miliardi di dollari in grado di mandare a gambe all'aria l'economia della Moldova. Quindi deve stare tranquilla la Moldova. Soprattutto la Moldova teme che gli ucraini possano in qualche modo far irrompere in Trasnistria, in particolare nel deposito di munizioni di Kobasna, per appropriarsi di queste munizioni che in larga misura sono anche scadute, quindi sarebbero anche pericolose. E quindi questa situazione di non schieramento è ciò che sta mantenendo a galla la zattera a Moldova. E così non possono fare altrimenti. La Moldova, peraltro, è costituzionalmente neutrale. L'articolo 10 vieta esplicitamente il dislocamento di truppe straniere sul proprio suolo. Cosa piuttosto curiosa, visto che sono presenti i sedicenti peacekeeper russi in Trasnistria. E questa posizione, ad esempio, ha portato la Moldova a dire di no a Kiev per la fornitura di armi militari, di armi d'origine sovietica, in particolare i 6 MiG-29 di cui è in possesso la Moldova, che stanno attualmente arrugginendo nel porto di Markulest, nella base che è a nord della Moldova, che è nella parte settentrionale della Moldova. Preferiscono far marcire questi caccia, questi velivoli, piuttosto che consegnarli a Kiev. La Moldova ha poche scelte. È costituzionalmente neutrale, quindi non può schierarsi in modo troppo forte, ed è sostanzialmente spazzabile via da un qualsiasi esercito. L'esercito Moldova è sostanzialmente evanescente. Non è forte per nulla, ma probabilmente nemmeno per mantenere l'ordine pubblico in caso di grosse rivolte interne. Stiamo parlando del paese più povero d'Europa, superato solo dall'Ucraina. Stiamo parlando anche di un paese che ha comunque delle comunità etniche consolidate al suo interno, pensiamo ai Gagauzi. Gagauzi sono una comunità turcica, ma molto legata alla Russia, perché sono ortodossi, non musulmani. Sono di un'ortodossia legata al patriarcato di Mosca, oltre al fatto che le terre che stanno abitando sono state garantite dai russi. Sostanzialmente i Gagauzi erano stati deportati dai Balcani e insediati proprio nella parte meridionale della Moldova. E quindi c'è anche una riconoscenza verso terre che gli sono stati regalati dall'impero zarista. E quindi c'è un legame molto forte. Il Gagauzo Medio non parla Moldavo, cioè non parla rumeno per la precisione. Poi spiegheremo la differenza sulla lingua. E questo arriva addirittura a generare dei problemi. La Bashkan, cioè la governatrice della Gagauzia Vlac, Irina Vlac, ha dovuto dire che dobbiamo fare delle lezioni di rumeno nelle nostre scuole, altrimenti non riusciremo mai ad esprimere dei parlamentari al Parlamento monocamerale di Chiesino. Attualmente non ci sono Gagauzi rappresentati. A rappresentare la Gagauzia ci sono politici socialisti del partito di Dodon, filo russo, a Chiesino, ma non c'è un vero rappresentante Gagauzo. Quindi già, giusto per capire le fratture interne, la Moldova non può permettersi delle rivolte, non avrebbe un esercito in grado sostanzialmente di reprimerle. Tutto sommato c'è da dire che la popolazione della Moldova è mediamente molto mansueta. Lo si vede anche nelle proteste che sono molto ordinate e mai in numeri eccessivi. Allora, mentre parlavi ho mostrato un po' anche la carta dei fronti della guerra in Ucraina e vedete qui appunto di quello di cui stiamo parlando, c'è il delta del Nanubio, la Romania, la Moldova, la Transnistria, quanto si vengono vicini ad essa e poi appunto ai fronti anche della guerra in Ucraina. Quindi stiamo parlando sempre di una polveriera. Tu hai accennato alla questione della lingua? Di recente il Parlamento monocamerale ha votato una risoluzione molto semplice, ovvero che la limba de stat, cioè la lingua di stato, è il rumeno, non il moldavo. Questa è una dichiarazione geopolitica molto significativa. C'è da dire che il moldavo non esiste. È, diciamo, una dicitura molto artificiosa. È un po' come se un ticinese sostenesse di parlare svizzero anziché italiano. E' una cosa che sarebbe piuttosto ridicola. Peraltro l'unica distinzione artificiosa tra moldavo e rumeno è venuta a mancare con la dissoluzione dell'Unione Sovietica. L'unica distinzione era il fatto che in Bessarabia era utilizzato l'alfabeto cirillico. Ma con l'indipendenza della Repubblica Moldova si è subito tornati all'alfabeto latino impiegato anche nella lingua rumena. La lingua moldava quindi non esiste, è rumeno ed è molto simile a parte qualche russismo oppure a parte qualche espressione dialettale. Ma i dialetti italiani sono tra loro molto più diversi di quanto non possa essere tra la parlata moldava e l'idioma rumeno. Quindi di fatto questo Parlamento ha sancito ciò che tutti i linguisti sanno. Cioè hanno semplicemente messo nero su bianco la verità. Il Moldavo non esiste, noi parliamo rumeno. Ok? Però perché è importante dal punto di vista geopolitico? Perché segna un avvicinamento della Moldova verso l'Occidente e soprattutto verso la nazione sorella, la Romania. Quindi è un po' un modo per voltare le spalle all'esperienza passata sovietica e alla vicinanza diciamo pluridecennale con la Russia. Quindi è una scelta di campo. È simbolica, ma è un simbolismo importante. Infatti sta irritando molto i moldavisti. Allora io direi, insomma, ci avviamo alla chiusura. Ecco, io ti farei come ultima domanda. Quindi è una Romania, da come ne abbiamo parlato oggi, è tutta concentrata sul suo fronte orientale, cioè nei rapporti con l'Ucraina, la Moldova, il Danubio, sul versante occidentale, altre questioni con altri paesi europei, o con i Balcani, insomma, gli altri paesi dell'ex-Utoslavia. Qui non ci sono problemi, è tutto più tranquillo, insomma, è così, o eppure è la guerra in Ucraina che ci sta orientando in questo senso? Allora, è sicuramente una zona più tranquilla, è percepita più tranquilla la parte dei Balcani occidentali, principalmente perché non ci sono grandi rivendicazioni irredentiste, diciamo così. Non sono tante le popolazioni romenofone che abitano oltre il banato. C'è però da dire che la Romania guarda sempre con più interesse ai Balcani occidentali. Ad esempio a maggio, quando andrò a presentare in modo ufficiale il mio libro, la traduzione del mio libro, contestualmente ci sarà il forum sul Mar Nero e i Balcani occidentali, che è un forum internazionale a Bucharest, molto importante. Quindi la Romania guarda i Balcani occidentali e vuole assumersi un ruolo sempre più importante in termini all'interno dell'alleanza atlantica. Vuole proporsi come elemento stabilizzatore, quindi andando un pochino a rosicchiare il compito che non si è mai assunto all'Italia. In realtà l'Italia ha contribuito a disgregare lo spazio dell'ex Yugoslavia. La Romania invece punta a un ritorno alla stabilità di questo spazio. Tant'è vero che, se vogliamo tornare un attimo sulla mappa della Romania Stelle e Strisce, in questa mappa noi mostriamo come parte della proiezione sia rivolta proprio verso la Serbia. Non dimentichi con una freccina. La base aerea di Campiatursi di cui parlavamo, che è dotata di droni di ultima generazione, dei più sofisticati, gli M9 Reaper, americani, servono non solo per monitorare lo spazio a est, quindi verso la Russia, ma anche, ad esempio, per monitorare a livello di intelligence i Balcani occidentali ed eventualmente intervenire rapidamente in caso di conflitto all'interno di questa regione storicamente instabile. Tant'è vero che il grosso delle truppe statunitensi si concentra nella parte ovest della Romania, non nella parte est verso la Russia. Quindi, questa è la situazione, la Romania diventerà sempre più importante. Infatti, parte del comando di Aviano verrà trasferito proprio a Campiatursi. Quindi, la Romania andrà a prendersi parte delle responsabilità che l'Italia non si è mai saputa assumere fino in fondo, per quanto riguarda questa problematica regione. quello vedremo, quello vedremo. Allora, non abbiamo parlato del Trimarium ed iniziativa dei tre mari che è un tema fondamentale a cui viene dedicato molto spazio nel volume La Polonia Imperiale, ecco, mostro intanto la carta, perché questo ne abbiamo parlato anche nella puntata con Caracciolo, è un progetto infrastrutturale europeo che però ha dietro, parlo di iniziativa dei tre mari, che però ha dietro un progetto geopolitico molto antico e che viene ora rilanciato appunto il Trimarium, cioè questa zona che colleghi tre mari e cioè il Baltico, il Nero, il Mar Nero e il Mar Adriatico che ricorda molto da vicino appunto il vecchio Granducato di Polonia e Lituania dove l'asse principale è tra Baltico e Mar Nero ma il collegamento con l'Adriatico e l'Italia non fa parte di questa iniziativa e questo è un problema perché di fatto se questa fascia in questi paesi la Polonia è il paese il Baltico la Romania e la Bulgaria sono i paesi del Mar Nero la Croazia e l'Adriatico però non abbiamo parlato perché torneremo sull'argomento perché dedicheremo una puntata ad hoc con Fabrizio Maronta proprio sul Trimario se tuttavia posso aggiungere un piccolo particolare che la Romania in ottica di ricostruzione dell'Ucraina si propone come piattaforma per la ricostruzione della zona della Bukovina settentrionale o di Leopoli in generale quindi quel piccolo cuneo che entra all'interno del fianco orientale della Nato e della regione di Odessa perché proprio per consolidare le linee logistiche che collegano al Mar Baltico al Mar Nero quindi la Romania si propone come diciamo piattaforma per andare a ricostruire e a consolidare comunque progetti che vanno dal nord a sud magari integrando proprio Leopoli che è proprio lì in centro come abbiamo visto bene nella mappa sull'istimo d'Europa Benissimo e allora ne riparleremo anche nella prossima puntata io direi di chiudere anche perché mi sta cedendo la voce come vedete mi scuso ancora appunto per questa voce allora Mirko grazie grazie per il tempo che ci hai dedicato e alla prossima grazie a voi buona giornata